Questa non è la lamentazione di una minoranza riottosa nei confronti dei tempi nuovi. Noi stiamo insistendo da alcuni mesi e nelle ultime settimane con più insistenza nel segnalare il rivolgimento in atto, lo stravolgimento in atto della natura del nostro regime democratico. Credo che per molto meno, nello stile della conduzione dell'attività legislativa sotto dettatura del governo, per molto meno ai tempi di Berlusconi ci si stracciava le vesti e si indicava il rischio della deriva autoritaria. Per molto meno. Noi siamo a un Parlamento al guinzaglio e con la museruola. Questa è la fotografia di una degenerazione in atto che ci siamo permessi di segnalare al Capo dello Stato e che viene censurata ogni qualvolta si provi a esprimere inquietudine, e turbamento per questo clima di progressivo inquinamento delle regole della democrazia. La subordinazione servile del potere legislativo al potere esecutivo è inaccettabile.